Centrosuono 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 Unice per Spermi Network Attenzione perché arrivavano Le Prime Dieci Le Prime Dieci Le Prime Dieci della Scorsa settimana DJ Hell con My Definition of House Music al Nove Olografic il Primo è Secondo e Terzo Oito per Transformer 2 e Fruit of Love Sette Spice Lab Spice Lab EP on Emission al Numero 6 di Aloof Easy Al Cinque Acid Rain con EasyRain EP Al Quattro Food for Woofers Transient si entra 3 per underground nation undertool sensation save me al 2 è N2O con l'intero mix e al numero 1 c'era soap con New York e Chicago ammazza che odore e beh allora 13.44 si può partire con l'aggiornamento di oggi che giorno è oggi fatelo ricordare che oggi dovrebbe essere il 5 novembre 1992 vediamo se mi appare sul computer a un certo punto ma poi chi se ne frega non è 5 novembre è il 5 novembre 1992 non è il 5 novembre oggi non è il 5 novembre la scorsa settimana è il 5 novembre che novembre siamo? va bene si parte con il numero 25 di oggi che marasma è il 5 novembre 1992 certo e allora qui cosa c'è scritto? vabbè va cara Sonia ne hai capito non hai capito che questa qui non era del 5 novembre va bene poi ci sentiremo in privato non ti preoccupare cari boccioni cari boccioni si parte subito con la classifica nuova oggi che è il 5 novembre 1992 infatti ho ragione al numero 25 troviamo in discesa dal numero 19 6 posizioni meno per Fred Orange Label non ti preoccupare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E lo so, è colpa mia, lo so. Scusa Sonia. Poi con Sonia bisogna essere buoni perché fra due giorni è il suo compleanno, quindi mettete le mani al portafoglio perché bisogna fare il regalo. Sto si rendo, dica. Tanto lei non ci sta sentendo, faccio, non ci sta sentendo. Centro suono, dance section. Dance section, dance section, wey. Avete saputo che Clinton ha vinto le elezioni degli Stati Uniti? E allora siete informati. Lo sappiamo e lo sapete. E allora lo sanno anche. E attenzione perché ritorno alla dance section siamo al numero 21. In discesa ci sono gli holographic con il primo, il secondo e il terzo. Per non dar fastidio a nessuno, né al primo né al terzo, mettiamo il secondo. E questo come si chiama? Chi lo sa? Holographic 1, Holographic 2, Holographic 3. Quale busta il numero vuole? Numero vuole busta la quale? La quale che ricordo... Ridi eh? Ridi, ridi! 12 posizioni in meno. Dal numero 9 al numero 21. Solo Bresaula aveva fatto come Holographic 1, 2, 3, 4. E chissà chi farà il 5, il 6, il 7, l'8, l'9. Fino adesso il primo è sempre Rocky, eh? Ricordatelo. Qua seguono Holographic e Bresaula a pari punti. Attenzione! Questa è la dance section! Questa è la dance section! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è un messaggio per coloro che non si ricordano da dove sono venuti. Ricordatevi che il passato ritorna e le colline sono in fiore. Sabato nel 7 novembre. Avevo aperto una parentesi un attimo che c'è una questione che bisogna risolvere al più presto. Sabato 7 novembre, secondo appuntamento al disco Clemaloo Club. In console, Lori D, Paolo Beat, Flavio, Danny Angelelli, maxi disco Clemaloo e l'appuntamento per le due serate di tendenza. Vieni a trovarci, siamo in via Casinina Sud 82, vicinanza e Borgo Sabotino. Per passare una notte all'insegna della tendenza, disco Maui vi aspetta al Clemaloo Club. Per informazioni 0337 795182. Non mancare. E attenzione, questa è la Dance Action. Dico sempre attenzione perché dico attenzione perché bisogna stare attenti, ascoltate. Ma soprattutto, sentite. E questa è stata New Entry, la scorsa settimana. Mi sa che l'ha fatta uno che beve tanto brandy perché è l'etichetta nera. Al numero 23 la settimana scorsa, al numero 20, aprite le orecchie e stringete i denti, c'è Black Label. L'etichetta nera, quella che crea l'atmosfera. E muovete quei piedi, forza. Allacciatevi le cinture di sicurezza dei lasci delle vostre scarpe e partite nel mondo della musica densa. E la musica per farvi ballare, e la musica per farvi impazzire. E solo noi ci riusciamo, noi, come ci chiamiamo noi? Radio Pizza e Fichi? No! E questa è la Dance Action, siamo arrivati al numero 20! E così,... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Spice a tutti. 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 e... 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 a tutti. e... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... 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 la... la... e... ... e... la... 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 sono... e... 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 ... ... e... a... e... 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 ... e... ... e... 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 ... e... con... e... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ... ... ... ...... ...... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ... E trovate tutti i dischi della Dance Action Remix 1, Remix 2 e Remix Fashion Vi invitano all'ascolto della Dance Action Non volevo far la rima ma me l'ho fatto uguale Welcome in the land of confusion Dal numero 11 al numero 10 Una posizione in più per Transformer 2 E questo frutto dell'amore Fruit of Love numero 10 Dance Action E questo frutto dell'amore E questo frutto dell'amore Grazie a tutti 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 Ero lì e non ho capito che è l'ex numero uno Infatti mi sta spuntando una lacrimuccia in questo momento Sto parlando di Fred che precipita il numero nove Otto posizioni in meno per l'orange label Etichetta arancione Arriva, arriva dal Belgio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il mito riapre Buro sabato pomeriggio vi aspetto eh Telefono per ulteriori informazioni 7840278 oppure rivolgetevi a Popshop in via Orso Mario Corbino E' un mega evento da non perdere la riapertura dell'imperio stellario nel Macumbaino Sabato è un'altra parte di chi è che canta? a nessuno. Centrosuono di Inspection. Arcadia presenta Andrew. L'uragano soffierà sulle vostre testi. Nulla potrà salvarvi dalla sua furia. Andrew, 14 novembre. Centrosuono di Inspection. Take it easy, 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 è venuto in radio il boccione originale, di origine al boccione, vero boccione, che lo prendo a calci per tutta via Salvatore Tallamo. Sto disgraziato, proprio il boccione. Isa, take it easy, Isa, Isa. Take it easy, tutto rap, non ci fai niente. E fra poco ci sarà la top hip hop. E intanto siamo al numero otto di questa stupenda classifica tutta di musica da ballare che si chiama Dance Sensation. Percussion. Ah, ma mi è fregato. Inizi fra un paio di ore con la percussion. Dal numero dieci al numero otto c'è il suono di Isa. Take it, Isa, Isa. eh? Tra l'altro take it easy è anche il nome di una festa di venerdì dove faccio il disc jockey. Can you eat my man? Dico ho fatto pubblicità, oh. Dio Luf! Bellest percussion. On a mission. This is percussion. Number eight of Dance Session. E chissà, americano in Roma? Americaner Kansas City from Miami. Isa. 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 Un saluto da Paolo Zerla, 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 Zerletti e anche alla sua fidanzata. Isa. Si chiama Isa la fidanzata. Grazie a tutti. 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 Via Luffa, il numero 8 è stato anche il numero 1 in Underground, countdown on a mission. E l'abbiamo fatto per voi e lo facciamo per voi e venga qui e venga qui e venga forte che lo faccio subito. Dai, porta questo foglietto, dai su, non c'è il foglietto. Ok, non c'è il foglietto. È un problema. Acid Rain, number 7. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Acid Rain è la nuente più alta della scorsa settimana, sala di un posto al numero 7 con Acid Rainy P. Finalmente è ritornato a Roma. I biglietti sono compresi di consumazione e i biglietti sono compresi di consumazione e li trovate solo sul posto. I biglietti sono compresi di consumazione e i biglietto. I biglietti sono compresi di consumazione e i biglietti sono compresi di consumazione e i biglietto. I biglietti sono compresi di consumazione e i biglietto. I biglietti sono compresi di consumazione e il fabbis clone e i biglietto. Paso sugalo. Allerga pensa la buon aprieta. Siamo al numero 6 Mi sa che vai in ritardo oggi caro tour Vai in ritardo Come va in ritardo le notizie Le 15 minuto a centro suono La linea della nostra redazione E bisogna accelerare Intanto le posizioni alte Sicuramente si ascolteranno anche giovedì prossimo E va bene Faremo un accennino Sopra New York Chicago al numero 4 Chicago 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 Come on Struzzuzzone manprinaro Lughe 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 Sopra il numero 4 Dal numero 5 Una posizione in più Centro suono Dance Action Riempi pista E benvenuti nello spazio riempi pista Nella nostra super classifica di discoteca La Dance Action Siamo arrivati al numero 3 Cono la grafica First, second and third Questo è il terzo Buon ascolto Death be not ground Tho sun has called thee mighty and dreadful Thou art not so Riempi pista Sipreszone manprinarsa Riempi pista Ce ne sono tre di questi Olografic Sono tutti e tre in classifica E neanche io farlo apposta Sono al numero tre Ed eccoci arrivati al numero due Della nostra classifica E finalmente è arrivato a Roma Sabato ventiquattro ottobre Bresaola quattro DJs Ralf Luca Colombo Giorgio Mattei Andrea Torre Special guest Francesco Zappalà Da Roma in esclusiva per tutta la notte Lori D Andrea Prezioso Faber Cucchetti Paolo Bitt Mauro Tannino Bismarck Fabrizio Eva Davide Lombardi E tanti altri Due sistemi laser computerizzati a colori Effetti birotecnici Importante amico Le prevennite sono terminate I biglietti sono compresi di consumazione E li trovate solo sul posto Attenzione a non perdere Bresala 4 Si svolgeranno nella zona di Roma Per ulteriori informazioni Continuate ad ascoltarci Oppure telefonate allo 0337 795182 Oppure 9043087 Vi ripeto i numeri 0337 795182 Oppure 9043087 Bresala 4 Un evento disco Maui Corporation E questo è il numero 2 Classifica C'è il microfono Zifulo Ti sto spaccando il microfono Torre E non solo quello N2O L'intero mix al numero 2 Sale dal numero 4 L'intero mix al 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 numero 4 è il numero due della nostra classifica andiamo a vedere quello che è successo all'intorno della tanda sai che è quest'oggi scusa Natto è partito con la destra non voleva partire il compadisc della settimana stringo va bene allora partiamo dal numero 25 proprio per stringere ma adesso al 25 24 di New Entry per Equinox 23 Raveman Logic 22 Wonka 21 Pro 8 New Entry Night Flight al 20 di Combination Essie Swing New Entry 19 New Entry più alta Leo Annibaldi Acid Vervation 18 Lenny D l'intero mix 17 Scratch in salita Plez sale al 16 al 15 Half Floor 14 per 6 A Clock con Dips Dwella 13 Gabrielle Sperminetto Rifix Chen Chen 12 DJ Hell 11 Hawkins Contro Frequency 10 Transformer 2 le prime 10 9 ex numero 1 fredda di Alufo al numero 8 è stato numero 1 anche in Underground Calm Down al 7 Acid Rain al 6 Food for Woofers 5 in salita Underground Nation Save Me al 4 Soap New York Chicago 3 Holographic Second Girl al 2 N2 al numero 1 Silenzio La numero 1 Spice Slapper Arriva dalla Germania questo disco produzione di Sven Vot per L'intero IP al numero 1 della Dance Action Dance Action che vi saluta e vi dà appuntamento la prossima settimana perché fra poco arriverà la Top Hip Hop Ciao dalla Dance Action Bella Tour e son tu e io no c'è un ginecologo l'ascolto e mi sa il travaglio questo non 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 li fare qui i cuccioli e mi sa il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.